Un biglietto per spiegare l'incapacità di vivere senza la sua compagna di vita. Lei morta, voglio morire anch'io. Così ha scritto Giustino Testa, 69 anni, trovato cadaveri insieme alla moglie Luisa Ciaburri, 64 anni, nel loro appartamento del Residence Bella Vista in Viale Venezia, Galliera Veneta. La coppia era morta da almeno due settimane, stesi a letto, uno accanto all'altra. Ancora non sono chiare le cause dei decessi, per questo il pubblico ministero che indaga ha disposto l'autopsia su entrambi i corpi. L'ipotesi più probabile è che la donna sia morta per cause naturali e che il marito, incapace di reggere il dolore, si sia tolto la vita avvelenandosi. L'allarma è stata data da una vicina, preoccupata per la puzza terribile che si sentiva uscire dalla porta accanto alla sua. Da giovedì scorso, un forte odore, ma tanto, tanto forte, proprio una puzza che pensavamo che fosse magari qualche bestia morta a sé. E invece dopo mia figlia ha chiamato i vigili e tutti sono venuti qua stamattina. Li hanno trovati morti tutti e due. Non si vanno mai perché lei era inferma. Quindi erano sempre in casa? Sempre in casa, mai vista fuori. Neanche lui poco, poco, poco. Stavano da soli così, come fanno tante persone. Certo è che c'è tristezza a vedere che succedono queste cose proprio alla porta accanto. È altro che triste, ma tanto anche, anche se non si conosce. La coppia era seguita dai servizi sociali del comune di Galliera Veneta. Solo il marito usciva di casa per la spesa. Luisa Ciaburri invece non si vedeva mai. Il sindaco spiega come si fosse mosso per aiutare i due coniugi che vivevano da un anno nell'appartamento di Viale Venezia con una pensione minima. C'è stata una richiesta di un aiuto, prima economico e dopo anche un aiuto di avere un appartamento a disposizione. Le abbiamo dato a questa famiglia che ora era molto ridotto il canone del mensile per loro. Avevano figli? Si sa se avevano qualche familiare? No, noi sappiamo che non ha nessun figlio e anche nessun parente. Loro sono di provenienza a Milano e sono circa 20 anni che abitano qui a Galliera. Lui lavorava su una ditta qui di Galliera.